La cultura del caffè espresso italiano nel mondo porta il nome di Lavazza. Esperienza, innovazione e creatività sono le sue caratteristiche principali. Da più di un secolo Lavazza rappresenta l'eccellenza grazie alla tradizione della qualità, ma anche attraverso una continua ricerca e sperimentazione. Fondata nel 1939 e da circa 70 anni, l'azienda Sacla è presente da protagonista sul mercato italiano. L'ultima creatura, i firmati, prodotto rivolto alle gastronomie e alle piccole società di vendita, dalle confetture ai sughi pronti, e poi la linea sughi originale e le vaschette fresche con varietà di olive. Non mancano prodotti bio. Da specialista delle conserve del tonno, Nostromo oggi è vero e proprio specialista dei prodotti del mare e dei prodotti freschi. Sono nate quattro specialità di sughi pronti, al tonno con carciofi, al tonno con pomodori, al merluzzo e allo scoglio. Nostromo è indice di garanzia da 60 anni.